Pozziglia, puoi andare, puoi andare, vai ringrazio il nostro caro amico Affonso di Castellammare che mi ha nominato a fare queste manifestazioni nel senso di una buona causa, una buona causa, una malattia che si chiama la SLAM e noi come amici di Torment Club, amici di Sabadona abbiamo fatto un piccolo affronte di offerta e dei piccoli pochi che ci siamo per oggi insomma un bel contributo che doniamo a questi ragazzi e a mia volta nomino il presidente M.P. Motors, Viaggio Muggione poi nomino Paolo Parente, presidente Graziaresi by Guess e nomino infine il centavo di Casagione, Giovanni Gennaro Tempolo e poi faccio un saluto particolare a un nostro caro amico amico Peppe Panico grazie grazie a testa, a testa! guarda! ooooh! bravo 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 ma tu niente bravo bravo ehi, che è tolia ehi, che è tolia ehi, che sono te o te ehi, che è il proazio grazie